Buongiorno, buongiorno, oggi abbiamo davvero esagerato, volevo il caffè ma ho visto che le condizioni non c'erano per il caffè, un bicchiere d'acqua per noi, poi mi viene di infetto biscottato, con marmellato, come fare più, un cello pigapil, questa è biscottata, un cello pigapil, se lo ho mangiato, portami due, non vedo più la luce del sole, questo non si sveglia più da anni, una cosa, una cosa, si sa sempre chiesto, questa è la porti di nera Andrea insalata insalata russa perché giustamente è marussata già ma ci manca a vedere che la roba, si può mangiare un guagno è coraceo stasamattina, quando avrei bisogno di nessuno vuoi domani che per questa collation? tutto? si, è complesso mamma ha cominciato che devo mangiare? un bello sei uova mamma che schifo non si dice comunque schifo del cibo schifo del cibo non è di mio credimento aiut, buongiorno sono le 9 a Praga ha fatto un certo fritto aiut, macchina un po' bagnata sta più avvicinando leggermente ma il freddo stamattina si fa sentito c'è anche un leggero vendicello che non ci fa tanto piacere che sasizze vicine ah sasiccino mamma di ma è bellissimo questo mamma mia ma io in Repubblica è cieca se porto con le pannine tagliate su assaggio un sasicchione non troppo buono metà e metà un sasicchione cieca non ci piace ma io red velvet 4 euro 19 assaggio l'aspetto com'è il vetro? è buono è buono frutti di bosco fa paura passiamo per provare questi dolci tipici che abbiamo visto un po' per tutta la strada eccoli qua è un dolce tipico zuccherato tutto attorno ragazzi assaggio il dolce tipico sopra c'è panna vabbè cannella dentro c'è la crema proprio una sozzeria dolce sul dolce senza vergogna è buono dentro è particolarmente buono anche le fracoli sentono però si può evitare c'è la sozzeria tipica del posto come se non può da tutte le parti ormai più su un altro morsicino gli altri che vogliono assaggiare anche loro questi qui erano i gusti che c'erano mela verde tipo poi fragole cioccolato fondente frutti di bosco vaniglia un po' questi gusti qua questo invece è un bel monumento aiuto vi faccio anche acculturare che volete di più? ragazzi è il momento di riscaldarci fa una certa temperatura con uno scaldacola da 2 gradi e arrivava benissimo ah il giro tutto quando è andato così Andre mi spieghi questa opera praticamente era un ragazzo che cercocciava di studiare tornava a casa aveva sempre i libri capisci ma chi chiede a studiare tutti i libri si hanno fatto tutti e è successo questo meglio di così non potevo spiegarlo ragazzi siamo arrivati al ristorante per il pranzo c'è un brodino mamma io che aspetta che addore siamo uomini e certe cose si superano quindi assaggiamo mamma mia che ma c'è pure il pollo? ci stanno 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 c'è un pollo l'acqua del rubinetto di bassena è buona o non è buona io voto no per me è eccezionale ragazzi i livelli veramente molto molto elevati buona 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 like un dolcino panna cotta con la marina sopra che non lanceremo ma come mangiare questo sicuramente meglio di quelli dei piatti precedenti ma come mangiare questo aiuto, usa C-Shot non è quello calabrese ma comunque è un C-Shot che mi ha rispettato è onorato è roba di classi, è roba di qualità ero 7,50 euro di waffle, mannaggia a chi c'è viva giù c'è la verità mangiare l'impressione la cazzetteria 10 volte è meglio Salerno 10 volte è meglio 7,60 euro di waffle mangiare la miseria chissà il frato genisca che ci ha fatto il foto chissà il frato genisca che ci ha fatto il foto chissà il frato genisca guardate che location spettacolare che abbiamo trovato una location improvvisata un'intuizione magica quasi guardate qua il castello sembra quello della Disney siamo un po' paragonando la città calde a quelli invernali siccome comunque la scelta della città era tra Barcellona e Praga tu sasichiotta a Barcellona non ci sta allora a Barcellona non ci sta chiaro che a Barcellona c'è un po' più caldo rispetto a qui però stavamo dicendo che sotto Natale e Praga secondo noi è una cosa incredibile però cercano sempre di fottere il turista che comunque se te eri waffle altre cose devi stare sempre attento noi abbiamo preso questa bibita alcolica all'anas il colore mi ispirava troppo quindi abbiamo deciso di prenderla un'ambunnezza 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 di caramelle ma che cazzo è gasata ma non saprei dirtimi cosa so beh come li sentite c'ha di buffo, caramella cazzo è una raggiata strana ed è blu frate ah mamma che schizzo cosa hai fatto? no allora se ci vai a pensare sta a dire ma ci devi pensare ragazzi siamo tornati allo stesso posto di prima devo dire la verità la sera è sempre più bella Praga no praticamente sta stupendo sta stupendo Praga le aspettative non erano così alte per il momento abbiamo ancora diversi massicciotti da mangiare quindi le opinioni possono cambiare ragazzi abbiamo preso un pacchettino per cena da wing house prometto che da quando torniamo a salerno farò la dieta uno quanta roba c'è frate te l'ho detto compà te l'ho detto forse abbiamo un po' esagerato forse comunque abbiamo preso 50 pezzi quindi 50 lette poi si fanno solo la lette in questa catena che si chiama wing house questo è peccato la conosce quindi io la conoscevo però quando pare abbastanza famosa sono 4 gusti diversi quindi saranno una quindicina di lette diciamo per ogni gusto abbiamo speso 30 euro anzi 35 e adesso andremo a provare partiamo dal pacco penne ho un po' di paura sinceramente non farmi vedere aspi sperando siano buoni questo è il primo gusto questo è il primo gusto che non so cosa sia ovviamente ragazzi questi non li sappiamo penso sia paprika comunque no queste cose secondo me sono buone l'odore non è il massimo anche qui questo è il bello è più pesante questo pacco rispetto all'altro forse è barbica è barbica è barbica mi fa piacere questo almeno piacciono sicuramente ah adesso capisco adesso capisco molte cose in pratica dopo aver espressionato il numero di a lette mi ha fatto scegliere quattro salse io questi quattro salse mi stavo facendo tipo delle salse e invece no è il gusto è bene il gusto per a te allora ho scelto sì due salse barbica diverse e poi una buffalo la buffalo è piccante la buffalo è quella con il parmigiano e l'altra a caso la buffalo è quella piccante lo scopriamo solo di vendo adesso andiamo con gli assaggi allora partiamo da questa qui che è la sassabalbe che non sono due tipi di sassabalbe che non me li saprò distinguere piccantina mi fa impazzire ok la prima voto 4 e mezzo addirittura piccantina ma il sapore questa qui è arancione che non ho idea di cosa sia quella buffalo si sarà qualcosa di molto speziato ma io non so di cosa sappia non ho proprio idea di quale sia il gusto di questa aletta cioè no veramente non ho idea non mi fa impazzire la verità non mi dico la verità sono messa al 100% fino ad ora le tre che ho mangiato non le rimangerei date il voto alla seconda ah è vero la prima ha detto 4 e mezzo la seconda 3 gulo ma cavolo la terza la terza comunque sapete la cucina a praga sono tutte di aglio tutto di aglio no è sì è un sacco di aglio tutto di aglio ma pure la letto sono solo di aglio ci mettono un sacco di aglio si questo è vero la terza la terza mesachetta la quale quella di prima facciamo quattro adesso andiamo all'ultima io speranza in quest'ultima no ma questa è buona buona questa è buona perché è una salsa barbecue normale allora vi dico come sono le cose perché questa qualche volta do 7 ma per la salsa io perché l'aletta non sa di niente cioè le alette del mcdonald sono 100 volte superiori comunque voglio sentire i loro pareri e vediamo un attimino ragazzi come vedete le alette sono quasi andate quasi perché abbiamo finito allora anzi ho finito queste qui che erano alla gusto sassa barbecue normale la mia riflessione è stata che secondo me anche i gusti comunque delle alette preparazione alette si adattano molto ai gusti del posto e siccome abbiamo sperimentato un po' oggi che qui a praga in repubblica cieca mangiano solamente aglio 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 su tutti i piatti anche le alette i tre gusti differenti da questo questi altri tre gusti erano tutti quanti pieni d'aglio ragazzi anche la differenza tra la salsa barbecue e l'altra era semplicemente questa era salsa barbecue normale infatti mi è piaciuta e quella lì era salsa barbecue con l'aglio ok andiamo con i voti io i miei voti l'ho già dati quindi ho messo questa qua al primo posto è l'unica che mi è piaciuta le altre tutte e tre scartate però Giamma innanzitutto quale metti come prima? sicuramente quella che hai dato pure tu il voto più alto questa qua con la salsa barbecue normale e riconfermo il set che hai dato tu per le altre io alzerei il voto di questa che secondo me almeno una sufficienza se la merita quindi il sei e pure questa diciamo che quattro quattro avevi dato pure tu sì quello è il parmigiano allora lo riconfermo invece la baffalo sinceramente tu hai dato un voto troppo alto secondo me la baffalo due sinceramente comunque per me quella proprio più immangiabile non era la baffalo che dicono loro ma per me quella più immangiabile era quello parmigiano cioè quello proprio in ciapace angelo la più buona allora la più buona eh voglio sempre mi trovo d'accordo con voi sempre questa quella lì in pratica classica cioè sinceramente è ovvio che sia buona poi le lette abbiamo detto che non sono niente quindi non ho niente particolare però le lette messe con buone salse cioè tipo se la ci metti mai tutta maionese invece di salse che non si può fare oppure che ne so anche pesto di pistacchio per dire qualsiasi cosa ci metti buona salsa decente e c'è comunque una cosa fatta bene cioè secondo posto questa qua con l'aio anche se non è che era buonissima alla fine questa qua che non l'ho mangiata proprio a fatica questa qua faceva proprio letteralmente schifo poi vediamo di fare un regalo a quelli dell'altra stanza siccome comunque sera molti di noi non sono scesi perché proprio ragazzi è una giornata molto molto pesante e sono andata a buttare le ultime lette rimaste a iu perché nessuno si mangiava mamma che freddo che fa fuori a iu a iu finisce qui il secondo vlog di Praga spero vi sia piaciuto anche questo un bel like una bella iscrizione al canale oggi abbiamo parlato soprattutto di cibo Perché praticamente abbiamo solamente mangiato oggi Poi un po' di stanchizia Abbiamo camminato 15 chilometri e mezzo oggi Quindi Una bella scrizione Un bel like Come sempre Un basciule ragazzi Noi Scegliamo Alla prossima Terzo episodio Fra poco Ciao Ciao